segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te leader del movimento 5 stelle giuseppe conte buonasera direttore e buonasera a tutti i telespettatori allora mettiamola giù e chiara ne abbiamo già parlato qualche giorno fa nel nel telegiornale e voi vi siete trovati come necessità quello che poi è diventata un'opportunità di parlare senza alleanze tornando allo spirito originario del movimento 5 stelle agli elettori e promettendo quelle stesse diciamo l'inverarsi ancora il implementarsi di quelle stesse cose che il movimento 5 stelle aveva è già proposto nelle scorse tornate elettorali reddito di cittadinanza eccetera è una strada che ha trovato congeniale lei che tutto sommato è la sua prima vera campagna elettorale politica e la campagna prima politica e ovviamente la freno l'affrontiamo con serenità con coerenza con linearità anche perché abbiamo la possibilità di presentare agli elettori innanzitutto un consuntivo resoconto di quel che abbiamo fatto l'ottanta per cento del programma di quel che abbiamo presentato nel 2018 sa che contestato no pacella politica ad esempio fa i conti ma su questo direttore potete intrattenerla un pomeriggio per dimostrare che forse siamo oltre l'ottanta per cento si approfitta che siamo a metà serata il pomeriggio di domani non si potrà fare lavoriamo su questo quindi abbiamo realizzato l'ottanta per cento del programma presentato diciamo buona parte possiamo fare questa cosa così non la gran parte però direttore se devo esprimere la mia valutazione lei poi mi contraddice mi lasci parlare allora l'ottanta per cento del programma è realizzato la gran parte del programma realizzato e con noi gli elettori hanno la garanzia quindi che siamo una forza che nonostante anche traversi interne difficoltà che abbiamo avuto molti compagni di viaggio ci hanno lasciato tutto questo ci ha aiutato a presentare una proposta oggi ci aiuta a presentare la proposta con maggiore chiarezza linearità d'azione e noi vogliamo un voto sul nostro programma e ci impegniamo per cinque anni a realizzarlo io dico sempre costi quel che costi con le unghie e con i denti realizzarlo con chi come in parlamento o al governo guardi è ovvio che noi siamo una forza è un programma che ovviamente aspira a trasformare a migliorare la qualità di vita dei cittadini aspiamo quindi a guidare il paese e abbiamo tutte le carte regola mi permetta di dirlo lo diciamo con umiltà ma senza finta modestia abbiamo governato il paese al momento più duro della pandemia abbiamo permesso al paese di rialzarsi in un attimo con un più 6,6 per cento di pill abbiamo adottato misure coraggiose che hanno preservato non solo è tutelato la salute dei cittadini ma anche preservato il tessuto produttivo con grande ripartenza nello stesso tempo ovviamente se dovessimo andare in opposizione perché ovviamente non possiamo escluderlo i cittadini però devono sapere che già nel 2013 2018 il momento cinque stelle è stato all'opposizione per cinque anni e comunque ha realizzato tante riforme tante misure cioè mi permetta di fare una sintesi l'importanza per una forza politica e mantenere fede a un percorso la stella polare deve essere il programma questo gli dà fiducia ai cittadini poi la forza con cui le esprime con il coraggio e la determinazione è assolutamente rilevante perché ti consente al di là delle formule di governo di volta in volta di avere comunque sempre un obiettivo davanti e non distrarti mai e su questo mi permette di dire che il momento cinque stelle ha le carte in regola per assumere impegni e garantire l'attuazione di questi impegni scusi dal 13 al 18 è preciso che riforme ha attuato guardi ne abbiamo attuate tante lei consideri che io non c'ero ancora ma lei consideri che ad esempio tutto il contrasto dei privilegi tutto il contrasto di quelle che erano un poco l'assestamento delle forze politiche tradizionali e della casta politica su quelli che erano i vitalizi e vi discorretto sono intervenuti tutti da lì poi il percorso si è completato ovviamente con la riduzione del numero dei parlamentari le battaglie sulla giustizia noi siamo una forza scomoda dove siamo noi l'asticella è sempre più alta per prescindere dal ruolo specifico ma non abbiamo e dall'incarico di responsabilità però chi non vi ama e anche chi ama le garanzie il sistema dei pesi contrapesi anche la giustizia dice che in voi c'è una venatura di giustizialismo che rischia di essere pericolosa per il cittadino quando si trova nei meccanismi della giustizia e la visione semplicistica di coloro che hanno sa quale visione della giustizia in questo momento ad esempio esibita al centro destra lo hanno anche dichiarato vogliono una riforma della giustizia a realizzare quella vecchia di berlusconi di craxi nordio che si ovviamente viene indicato come il probabile ministro in pectore della della giustizia del centro destra già dichiarato che vuole restaurare reintrodurre l'immunità parlamentare vuole tagliare i soldi per che le procure utilizzano per le intercettazioni telefoniche con uno strumento investigativo essenziale ovviamente per perseguire la malavita organizzata in generale la mafia in particolare ecco allora mi permetta di dire non c'è stato abuso che se quello è il modello di giustizia noi siamo orgogliosissimi ma dietro il nostro modello di giustizia non c'è giustizialismo c'è una visione di una cultura giuridica seria che è sottolineo seria dove c'è un principio fondamentale lo stato e quella è una prerogativa sovrana deve dare giustizia ai cittadini a chi domanda giustizia alle vittime di reati quindi ad esempio e per questo abbiamo molto sofferto con la riforma cartabia quando c'è stata presentata una versione originaria assolutamente inaccettabile e dopo due anni di un giudizio d'appello si sarebbero volatilizzati migliaia e migliaia di processi questo noi non l'accettiamo c'è stato uno scontro il primo scontro feroce serio con questo governo dieci giorni di duro braccio di ferro abbiamo ottenuto una riforma significativa della versione originaria e per questo abbiamo condivisa però dico ancora oggi quindi è la vostra riforma anche assolutamente no non rimane la nostra riforma abbiamo dovuto trovare un compromesso però l'ho detto a caldo e lo ripeto oggi in campagna elettorale i cittadini che votano il 25 settembre noi continueremo a monitorare gli effetti di questa riforma pronti a intervenire e per questo che avete candidato anche due prestigiosi ex magistrati inquirenti ma per noi guardi la legalità anche l'etica pubblica più in generale la lotta contro la corruzione contro ogni forma di infiltrazione mafiosa e la premessa di passare azioni politiche per questo che abbiamo rinforzato la squadra con roberto scarpinato federico che fiero de rao che sono due al fieri ovviamente della lotta la lega per la legalità contro la corruzione e contro la mafia e ma non c'è un rischio di per carità sono figure che sono più più che meno al di sopra di ogni sospetto però si identificano con il ruolo della magistratura inquirente cioè quella magistratura che persegue poi però c'è una giustizia che stiamo per una distinzione ruoli stiamo parlando di due magistrati che sono andati da poco in pensione quindi non c'è nessuna possibilità che possano poi con le sliding doors come si dice ritornare a svolgere di nuovo il ruolo di magistrati loro in questo momento della loro vita hanno accolto questa mia proposta la proposta del movimento 5 stelle di continuare sul piano politico ovviamente quella lotta per la legalità che hanno sempre perseguito contro tutte le infiltrazioni mafiose che hanno perseguito in veste completamente diversa da magistrati senta presidente conte io so che lei non ama parlare di quello che potrebbe succedere dopo il voto si tiene ma non ne parliamo si tiene mani libera prima anche perché non abbiamo la palla di vetro bene io non andiamo parlare d'altro la finiamo qui mi facciate qualcosa sul programma però io glielo devo chiedere ovviamente cioè chi chiede il voto chiede per ottenere qualcosa in via parlamentare è chiaro si può lavorare diciamo dal 2013 al 2018 5 stelle dall'opposizione hanno hanno fatto delle battaglie che si sono tradotte in risultati ma se si presentasse la possibilità per effetto dei risultati di governare voi governereste con chiunque come un po' avete fatto nella scorsa nella legislatura che si sta concludendo oppure avete delle frontiere invalicabili direttore per me non è un motivo di demerito aver realizzato l'80 per cento aver avuto come stella polare il programma e ricordo quando lei dice abbiamo votato con chiunque e qui c'è un'accezione anche negativa se non da parte sua da parte di molti commentatori la verità è che secondo me questo restituisce fiducia ai cittadini oggi chi vota al movimento 5 stelle sa che la sua fiducia non sarà tradita rispetto a quel programma e questa è la garanzia fondamentale che può spingere persone a non rimanere confinate nell'astenzionismo invece a venire fuori e ovviamente a dire il mio voto conta questa è la prospettiva adesso io non la parla di vetro però è chiaro che ne parleremo all'indomani ovviamente alcune indicazioni noi le abbiamo date insomma con questo gruppo dirigente del PD sedersi a un tavolo dopo il cinismo opportunistico che hanno dimostrato dopo il fatto di aver abbracciato qualsiasi forma di alleanza o di cartello elettorale con chiunque meno che con noi non c'è nessuna affidabilità e fiducia da parte nostra di poter costruire un dialogo ma soprattutto per i contenuti poi attenzione perché comunque è un gruppo dirigente che si è presentato ai cittadini dicendo una proposta politica vuota dicendo guardate per noi è fondamentale l'agenda Draghi dove il protagonista ha dichiarato di non aver scritto questa agenda e ha dichiarato di non essere disponibile per un nuovo incarico nella nuova legislatura quindi come dire è una proposta anche priva di contenuti lei con Draghi è stato anche sferzante negli ultimi giorni che giudizio dà del governo Draghi? voi avete già citato la riforma della giustizia insomma avete avuto un rapporto ambivalente come era inevitabile voi siete entrati con molti mal di pancia nella coalizione che ha retto il governo Draghi e poi è finita come sappiamo tra l'altro su una vicenda che era evidentemente il principio della rettura il termovalorizzatore di Roma dentro il decreto aiuti e poi tutto quello che ne è successo lei che giudizio dà del governo Draghi e di Draghi? lo dico in sintesi è chiaro che per noi è stato questo governo di larghe intese ci ha procurato molta sofferenza politica anche perché con forze eterogenei ovviamente che hanno istanze completamente diverse dalle nostre la visione del paese è completamente diversa è difficile lavorare già in termini oggettivi in più ci si è messo il fatto che abbiamo visto questo governo che è rimasto abbastanza inerte abbastanza passivo rispetto a passaggi fondamentali avremmo voluto, io l'ho detto, un maggior protagonismo dell'Italia in direzione di un negoziato di pace non c'è stato, non pervenuto abbiamo, come dire, ci siamo accodati alla strategia definita Washington e a Londra la stiamo seguendo questo vale un po' per tutta l'Unione Europea poi ancora il passaggio... ma cosa avremmo dovuto fare? adesso, semmai ci arriviamo, completo poi c'è anche il passaggio sulla cartabia che abbiamo ricordato siamo rimasti veramente, come dire, sorpresi da una proposta di riforma della Bonafede insomma, nel senso assolutamente insostenibile con migliaia di processi che hanno rinforzato la Bonafede, lo spiego, lo ricordo ai telespettatori era il ministro, Alfonso Bonafede, della giustizia del Movimento 5 Stelle durante il governo Conte 1, giallo-verde per intenderci e evidentemente gli elementi della riforma cartabia la ministra della giustizia e il governo Draghi erano completamente diversi stravolgevano a detta di Conte quelle che erano... guardi, ho fatto oggettivo era previsto che dopo due anni di giudizio e appello il processo o c'era sentenza o andava in fumo lei pensi un attimo tutti gli investimenti fatti, eccetera con le nostre aule di giustizia due anni significa che andavano in fumo ho detto dagli addetti ai lavori la metà dei giudizi e appello una cosa insostenibile andiamo avanti la corsa a riarmo a marzo del governo... lei era l'avvocato del popolo pensi se era il PM del popolo no, 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 guardi parliamo di cultura giuridica non si lasci forviare dagli schemi giustizialisti da me stesso non giustizialista noi siamo molto attenti e rispettosi dei diritti fondamentali della persona e delle regole del giusto processo come è scritto nella nostra Costituzione ma il giusto processo non prevede che non ci sia sentenza prevede che ci sia una sentenza nei termini detto questo un altro passaggio molto di forte incomprensione diciamo così e di dissenso col governo è stato quando c'è stata la svolta la corsa a riarmo a seguito degli atti dei paesi occidentali anche questo governo voleva investire 10-15 miliardi in quella direzione a febbraio-marzo noi avevamo già visto sotto gli occhi quella che era un'inflazione che era già al 2% difficoltà ovviamente il sistema economico-sociale produttivo difficoltà anche per le materie prime caro bollette caro energia era tutto già evidente abbiamo detto no i maggiori investimenti se ne abbiamo risorse le dobbiamo tutte destinare per cittadini famiglie commercianti e imprenditori a quel punto lì è nato poi una un tentativo di dialogo anche incalzante lo devo dire con Draghi poi è nato anche addirittura un documento politico in cui abbiamo voluto mettere nero su bianco quelle che per noi erano le priorità non c'è stata possibilità di dialogo non c'è stata nessuna risposta e siamo qui ad affrontare un autunno in cui ovviamente tutte quelle emergenze sono esplose come avevamo previsto senza una reale soluzione senta allora mettiamo che va come va qualsiasi modo vada il voto dal suo punto di vista bene per voi dal punto di vista percentuale voi vi trovate di fronte a uno scenario in cui lei dice l'attuale gruppo dirigente l'attuale guida del Partito Democratico non è non è un interlocutore con cui possiamo trattare voi scegliete la strada parlamentare o vi tenete le mani libere lei si tiene le mani le voglio ripeto lei continua a proiettare io penso io lo dico io penso che un telespettatore elettore ha diritto di sapere io voto poniamo il Movimento 5 Stelle che ne fa del mio voto il Movimento 5 Stelle e allora guardi con questa indicazione perché sia chiaro noi non abbiamo difficoltà ad andare anche all'opposizione se fosse necessario l'importante ripeto anche dall'opposizione continueremo lo dimostreremo perché lì vale la forza politica l'intransigenza la determinazione noi lavoreremo per attuare quel programma se necessario se fossimo anche dall'opposizione quel che è chiaro che non faremo non stiamo disponibili ho detto a governi di larghe intese di cui già si favoleggia perché è ovvio che ci sono delle forze politiche con esponenti pienamente legittimi che ovviamente sono degli specialisti del potere che se ci sono formule del genere già li stanno adocchiando lei ce l'ha col terzo polo che dice se non vince il centrodestra bisogna fare un governo largo guardi disponibili addesa sinistra in alto e in basso l'importante ha già un conto positivo aperto con Renzi l'importante è che ci siamo questa è un po' la logica di altri la nostra non è l'importante è che ci siamo noi ci saremo per guidare il paese confidando ovviamente che anche questa volta ci riveleremo la sorpresa come è stato in passato ce lo auguriamo di queste elezioni ma se fosse necessario ci ritroveremo all'opposizione i cittadini devono sapere che agiremo con coerenza e determinazione sulla guerra sulle armi all'Ucraina qual è la vostra posizione la posizione l'abbiamo espressa molto chiaramente da sempre pieno sostegno all'Ucraina abbiamo detto subito no sempre costante ferma condanna senza se senza ma alla Russia all'aggressione militare il problema è la prospettiva la strategia attuale dove ci sta portando a un escaletio militare adesso questo escaletio militare si sta addirittura tramutando nel rischio che venga utilizzato l'arsenale consistentissimo della Russia di armi nucleari armi non convenzionali chimiche batteriologiche nessuno può dire in questo momento se questo è un blef o non è un blef se è retorica propaganda o non retorica ma un rischio vero di fatto il rischio c'è e questa strategia non ci sta portando a una via d'uscita l'unica via d'uscita noi l'abbiamo individuata da subito abbiamo perorato un impegno anche del governo italiano ma non isolato che uno si sveglia la mattina e esce fuori da un'alleanza e se ne va per conto suo all'interno dell'Unione Europea innanzitutto dell'alleanza euro-atlantica per convincere tutti che questa è la soluzione ma se tutti hanno un'altra opinione Washington ha un'altra posizione l'Europa ha un'altra posizione ma noi siamo parte integrante di questa alleanza o siamo lì a ricevere passivamente ordini siamo parte dell'alleanza lei dice giustamente meglio da questo punto di vista nel rapporto in altri momenti storici e anche nell'Unione Europea recentemente quando abbiamo avuto la pandemia l'Italia ha dimostrato addirittura di essere capofila di una svolta per quanto riguarda la risposta europea ai recovery fund e PNRR dove gli altri paesi erano completamente riluttanti ci siamo riusciti bisogna avere visione coraggio determinazione meglio Trump o Biden come interlocutore guardi non mi faccia entrare nelle logiche altrui eccetera io di Trump capisco la provocazione di Trump si è molto favoleggiato per il fatto che ci sia stata da parte sua questa simpatia anche personale e ancora recentemente è intervenuto a dichiarare Giuseppe Conte sollecitato da un giornalista di Repubblica Italiana ha dichiarato ricordo una brava persona grazie ricordo che abbiamo lavorato bene Italia e Stati Uniti quando eravamo rispettivamente presidenti nulla di cui vergognarsi se entriamo nell'ambito delle specifiche caratteristiche e indirizzi della politica Trumpiana le potrei dire una serie di ragioni per cui non la condivido però io non stavo ma non devo scegliere ma non mi sembra che ci siano mi par di capire che la linea attuale della presidenza americana riguardo alla guerra d'Ucraina sia considerata da lei oltransista il fatto che io abbia e sia l'attore per l'interesse del mio paese e per l'interesse europeo perché parliamo di una guerra europea quindi si tratta anche di far giocare un ruolo all'Unione Europea il fatto che io auspichi un maggiore protagonismo dell'Italia e dell'Unione Europea non significa che io voglio cambiare Biden scusi non è così significa semplicemente che secondo me chi rappresenta l'Italia e dovessi ovviamente non sarebbe manco possibile ovvio però voglio dire significa che chi rappresenta l'Italia e si siede a quei consessi deve cercare di indirizzare la discussione e il confronto verso una soluzione che ci porti tutti a una via d'uscita onorevole credibile e duratura che porti pace e sicurezza perché a tacere di tutto il resto il rischio serio di distruzioni di massa con queste armi non convenzionali c'è anche un fatto che stiamo toccando con mano c'è una grave recessione economica che il nostro paese e l'Europa intera non riesce a sopportare a lungo senta a questo proposito parliamo di programmi ogni tanto sì esatto anche queste cose fanno parte questo politico estera senza altro però allora nel 2018 il Movimento 5 Stelle oltre a tutto il resto vinse le elezioni 32% principalmente con la proposta del reddito di cittadinanza quattro anni e mezzo dopo vi presentate ancora come gli alfieri del reddito di cittadinanza per supportarlo per preservarlo contro chi lo vuole togliere o lo vuole modificare e per dire se mai lo miglioriamo diamo per scontate le argomentazioni che abbiamo sentito in tutta la campagna elettorale per il reddito di cittadinanza in continuità peraltro con la storia del Movimento ma a parte questo quali sono le altre proposte perché quello che si è detto anche negli anni cruciali di questa legislatura è è finito il repertorio hanno fatto il reddito di cittadinanza non hanno cose nuove da portare lei cosa risponde coi fatti le rispondo in questi termini secondo lei direttore i bisogni reali di famiglie cittadini imprese sono finiti qui con il reddito di cittadinanza no sono aumentati sono aumentati e secondo lei c'è ancora più necessità di una forza politica innovatrice che trasformi meglio questo paese e migliori la qualità di vita dei cittadini ecco è quello che tutti se ne promettono di fare a parole però io noi abbiamo un articolato programma che non è ovviamente fatto condito da progetti mirabolanti ma da promesse realizzabili finanziariamente sostenibili faccio qualche innanzitutto ovviamente intervenire sulla ristrutturazione del mercato di lavoro non più buste paga la fame 2-3-4 euro lordi ma 9 euro lordi salario minimo legale dobbiamo dire stop al precariato selvaggio la maggior parte dei contratti addirittura durano un giorno non superano 30 giorni ancora taglio del curio fiscale perché oggi il cedo medio dei lavoratori si è ormai impoverito quindi due terzi lavoratori un terzo alle imprese la prospettiva nuova è il riduzione del tempo di lavoro in tutti i paesi noi lavoriamo di più e produciamo di meno abbiamo un progetto sperimentale per portare a 35 ore da 40 nei settori di maggiore impatto tecnologico a parità salariale e dimostreremo che la produttività non ne risenta uno mi dica no dovrebbe aumentare la produttività come se si aumenta vede aumenta perché aumenta perché chiaramente è il tempo libero uno riesce a dosare meglio il tempo libero gli affetti la partecipazione eccetera e quindi lavorando ovviamente dobbiamo continuare a intervenire per gli altri tasselli che contribuiscono alla produttività migliorare la burocrazia informatizzare la burocrazia i tempi della giustizia e via discorrendo per quanto riguarda le altre riforme guardi è importante anche tener conto dei pensionati oggi i pensionati le pensioni sono molto basse dobbiamo migliorare quelle dell'invalide civile in particolare ma un po' tutti i pensionati io non posso dire oggi e non posso promettere l'irrealizzabile cioè di portare tutte le pensioni quelle più basse a 1000 euro è una riforma che costa 30 miliardi non ci sono non è possibile però noi possiamo detassare tutte le pensioni fino a 1000 euro alziamo la soglia di detassazione quindi fino a 1000 euro concretamente i pensionati che ci seguono potranno avere ancora di più più pesante la loro pensione di 50 a 100, 150 a 180 euro e poi se mi permette c'è una riforma importante quello del cashback fiscale Draghi ha fatto un gondono fiscale ha esordito con questo governo e poi ha cancellato quel cashback in realtà quello è uno strumento essenziale per contrastare l'economia sommersa e quindi per contrastare anche l'evasione noi vogliamo applicare il cashback fiscale adesso una versione sofisticata per le spese sanitarie veterinarie il che significa riaccredito immediato sul conto corrente dello sconto che facciamo e lo estendiamo guardi in questo momento ci sono 2 milioni di rapporti di famiglie che hanno contratti o rapporti con colfe badanti un milione sono dichiarati un milione sono in nero allora se noi offriamo la possibilità di una deduzione dei contributi sino al 50% offriamo alle famiglie la possibilità veramente un grande incentivo per portare in chiaro l'emersione dal nero esatto questi rapporti costa 300 milioni abbiamo studiato questa riforma gliela dico qui in anteprima guardi è una notizia ci siamo riservati un paio d'ore non avrebbe potuto più dire ci siamo riservati perché in questi giorni ci abbiamo ancora lavorato volevo essere sicuro che potesse essere un impegno da mantenere allora possiamo mantenere perché questi 300 milioni in qualche modo saranno anche compensati dall'emersione dal maggior gettito in più lei sa che esiste un libretto di famiglia con l'Inps dove ci sono dei voucher da 10 euro dei voucher digitali e questo serve alle famiglie per avere delle prestazioni agevolarsi di prestazioni con babysitter giardinieri anche i professori che fanno ripetizioni ai nostri figli noi vogliamo estendere questo li vogliamo estendere anche ai lavoratori autonomi che fanno prestazioni occasionali l'idraulico l'artigiano che viene a casa i piccoli lavori questo ci consentirà di avere un taglio del 50% della spesa il tutto ovviamente col cashback fiscale è un grande vantaggio per l'emersione del nero è un grande vantaggio per le famiglie perché significa dimezzamento al 50% dei costi l'ho passata tutto perché era una novità ed era un'assoluta novità una novità la fermo prima che tiri fuori le pentole perché era già sembrava quelle cose la sto scherzando la sto scherzando però è interessante lei fa la sua battuta per una cosa seria e io le sto quantificando l'una 300 milioni 300 milioni l'altra la seconda è circa 30 milioni quindi sono cose studiate si autofinanziano con l'emersione dal nero questo è chiarissimo no no quello è evidente ma stiamo parlando di pentole direttore guardi che anche le pentole servono ma le pentole non è inappetente le lascio le battute le lascio la battuta lei così è contento no io non sono contento affatto sono contento perché l'ha potuta dire ha detto le posso dire una cosa rispetto a prima lei ha parlato di rete di cittadinanza guardi ci stanno schiacciando come immagine politica il partito del sud ma il rete di cittadinanza per noi è una riforma che dobbiamo migliorare sul piano delle politiche attive l'abbiamo detto più volte eccetera ma noi non siamo solo quelli del rete di cittadinanza sono gli altri che hanno fatto la guerra ai poveri e ci hanno costretto a chiarire che dovranno passare che sono gli altri beh da Renzi a Meloni tutti quanti insieme poi adesso stanno ritrattando perché hanno visto fare gli ultimi sondaggi noi siamo il primo partito al sud allora si stanno ricalibrando tanto è vero che hanno deciso pure di chiudere quindi siete il partito del sud noi non siamo il partito del sud siamo il partito dell'Italia intera si ricordi sempre che noi abbiamo portato 209 miliardi col PNRR quando sembrava una missione impossibile 80 miliardi andranno al sud tutto il resto al nord si ricordi sempre che quando c'è stato io me lo ricordo ma dobbiamo chiudere la fase più grave della pandemia abbiamo fatto 5 variazioni di bilancio quei 130-140 miliardi per la maggior parte sono andati in Lombardia la regione più disastrata in quel momento più in ginocchio e al nord si ricordi sempre che il super bonus è grandissimamente sfruttato al nord i campieri più numerosi sono stati aperti in Veneto i 630 mila occupati sono lì so che ne parlerebbe molto dov'è domenica sera? starò a seguire ovviamente lo spoglio e cercheremo di collegarci va bene con grande piacere grazie a Giuseppe